Ciao a tutti, oggi vi faccio vedere la modifica dell'Uniball sull'occhiello superiore dell'ammortizzatore. Video e vi spiego di cosa si tratta. Allora, questo è l'Uniball montato sull'occhiello superiore. Quando sarà fissato sopra, l'ammortizzatore si muoverà in questo modo e in questo modo. Perciò, tutto il movimento che andrà a fare il carro, lui lo seguirà. Andando a limitare, se non allullare completamente, credo di no, comunque a limitare parecchio il lavoro che va a fare alla base dell'occhiello dello stelo, che è quello che provoca a parecchio successo la rottura dello stelo. Questa è una cosa che sulle moto c'è da un sacco di tempo. Chi arriva dalle moto appena vede una modifica del genere, che in questo caso è stata fatta da Marco Poletti. Appena ci ha messo sulle mani si è accorto subito che c'era qualcosa che mancava nella sospensione e allora in 448 l'ha fatta. Adesso vende il kit per montare l'Uniball sull'occhiello superiore. Adesso procediamo con il montaggio. Quindi, quello che vi dicevo prima, se voi guardate adesso, lui fa questo movimento e fa questo movimento. Perciò, sulle biciclette, ma anche sulle moto, le torsioni del carro ci sono sempre. Problemi con le specializes in particolare a me non è mai successo niente, però, visto che adesso Marco Poletti ha fatto una modifica, io la monto perché, come tutto quello che vedete su questa bicicletta, tutto quello che può essere una miglioria la faccio. E questo è il funzionamento dell'Uniball, che è quello che dovrebbe andare a smorzare o ad attutire tutte le torsioni che ci sono e che si vanno a scaricare sullo stelo dell'amortizzatore. Adesso ci manca solo di fine di montarlo e poi domani la proviamo. Il montaggio è abbastanza semplice, ovviamente se avete un po' di dimestichezza con la meccanica e se avete l'attrezzino per togliere la boccola sull'occhiello dell'amortizzatore e infilare dentro l'Uniball. Se no, piuttosto, si prende e si spedisce l'amortizzatore a Marco Poletti e lui vi metterà sull'Uniball così non rischiate niente. Va bene? Alla prossima! Ciao ciao!